eminenza papa francesco visiterà prima cuba e poi gli stati uniti paesi protagonisti di uno storico di gelo propiziato anche dalla santa sede ora i vescovi dei due paesi chiedono con forza l'eliminazione dell'embargo passo che incoraggerà la libertà religiosa e rispetto dei diritti umani a cuba ne è convinto anche lei si è ben nota la posizione della santa sede su questo tema dell'embargo che una posizione diciamo contraria al di là di quelle che possono essere le motivazioni ecco esiste un dato di fatto e cioè che l'embargo questo tipo di sanzione ecco provoca disagi e sofferenze nella popolazione che diciamo lo subisce e per questo che la santa sede da questo punto che la santa sede ecco affronta la questione e che a livello delle nazioni unite nell'assemblea generali ha appoggiato sempre le emozioni che chiedono una revoca dell'embargo a cuba e quindi c'è da sperare sì come dicono i vescovi c'è da augurarsi c'è da auspicare che una misura di questo genere che possa cioè una liberalizzazione a livello di vincoli e di legami che soprattutto a livello economico possa portare però anche una maggiore come dire apertura dal punto di vista della libertà e dei diritti umani un fiorire ecco di questi aspetti fondamentali per la vita delle persone dei popoli. Una tappa importante del viaggio a cuba sarà la visita al santuario mariano della virgen della carità del cobre. Sì mi pare direi normale che il papa visiti un santuario mariano e un santuario mariano come quello della carità del cobre di cuba perché perché la devozione mariana è una delle caratteristiche fondamentali ecco della religiosità e della fede cattolica del popolo latino americano e poi perché la virgen della carità del cobre ha sempre accompagnato la storia dei cubani ecco in tutti i suoi momenti diciamo di gioie e di dolori di lotte di sofferenze e di progressi quindi è un po il simbolo di questa di questa storia un po il simbolo della della stessa popolazione quindi il papa incontrando diciamo andando al santuario incontrerà un po il cuore di questa isola e di questo popolo. Il papa ha deciso di entrare negli Stati Uniti da cuba come un migrante hanno detto i vescovi del paese americano come per ricordarci che siamo un paese di immigrati sarà questo uno dei temi principali della visita visto anche quello che succede in europa in questo momento? sì certamente certamente immagino che il papa tratterà appunto come uno dei temi non dico il principale ma sicuramente tra i temi più importanti della sua visita proprio quello della della migrazione ed è come lei ricordava una preoccupazione costante del papa di fronte all'emergenza ecco che ci troviamo a vivere in questi giorni sappiamo quanti sono i suoi interventi direi quasi quotidiani ecco su questo tema e nello stesso tempo si trova a rivolgersi ad un paese che ha una lunga storia di migrazione ecco una lunga storia di immigrazione e nello stesso tempo anche una lunga storia di apertura di accoglienza e di integrazione delle varie ondate di emigrati che sono che sono arrivati mi pare che tutto questo può costituire davvero una base un patrimonio diciamo un patrimonio sociale e culturale a partire dal quale affrontare anche le sfide odierne della della migrazione e risolvere i casi che sono dolorosamente aperti quindi io io spero davvero che questa unione da parte cioè questo incontro da parte del papa che porta questo problema nel suo cuore da parte di un paese appunto che ha conosciuto questo fenomeno nella sua storia possa offrire anche indicazioni per la soluzione dei problemi che attualmente si presentano da questo punto di vista a washington papa francesco canonizzerà fray unipero serra che ha definito padre fondatore degli stati uniti sarà un'occasione anche per recuperare la memoria ispano cattolica che ha la base alla fondazione di questo grande paese sì io credo che sulla canonizzazione di padre junipero serra si deve riferire al discorso che il papa ha fatto il maggio scorso il 2 maggio scorso al collegio americano del nord quando è intervenuto in quel convegno appunto che voleva essere una specie di preparazione a questa canonizzazione quando lo ha definito uno uno dei padri fondatori dell'america in particolare junipero serra è ricordato come il padre della california no e poi ha detto però è anche un santo della cattolicità ed è un patrono della popolazione ispanica negli negli stati uniti no per quanto egli ha fatto appunto per l'evangelizzazione e mi piace ricordare quello che il papa ha detto un certo punto dice di queste grandi figure ecco noi siamo soliti considerare passare sotto attenta osservazione sia i pregi sia anche i limiti e le debolezze ma dice ma si domandava abbiamo noi la stessa generosità che hanno avuto queste persone abbiamo noi lo stesso slancio abbiamo noi lo stesso coraggio ecco credo che questa è la lezione fondamentale che ci dà il padre cunipero serra questo entusiasmo questo coraggio questo slancio ecco per portare il vangelo in quelle terre e che diventa anche oggi un invito a saper integrare appunto all'interno della chiesa degli stati uniti anche questa componente ispanica diciamo che diventa sempre più importante sempre più rilevante e che ha un notevole contributo da offrire alla chiesa degli stati uniti il papa parlerà prima al congresso degli stati uniti poi alle nazioni unite rilancerà il messaggio dell'enciclica laudato sì sì certamente certamente però io direi in questo senso nel senso certamente dei cambiamenti climatici e delle preoccupazioni che essi stanno generando appunto per il futuro dell'umanità ma direi anche nel senso e soprattutto che fin dei conti è il messaggio ecco specifico del papa nel senso di quella ecologia integrale di cui lui parla no che prende in considerazione appunto l'uomo all'interno del creato e in questo senso non mancherà di ribadire quella che è la natura trascendentale della persona dalla quale scaturiscono i suoi diritti fondamentali il diritto alla vita e soprattutto il diritto alla vita e il diritto alla libertà religiosa e inviteranno a cambiare questo i nostri stili di vita ecco per poter essere custodi del creato come lui lo dice e non invece dominatori o aggressori del creato. I Stati Uniti però ci sono state alcune critiche perché considerano l'enciclica un attacco troppo forte al sistema capitalistico? Beh credo che il papa tocca i punti fondamentali ecco io so che ci sono state queste critiche però il papa credo invita tutti alla riflessione e credo che è realistico ecco rendersi conto che le cose non stanno andando nel verso giusto quindi trovare anche diciamo del come dire delle vie di soluzione mi pare che il papa invita a questo ognuno può dare il suo contributo ma c'è bisogno di un cambio c'è bisogno di un cambio. A Filadelfia il papa incontrerà le famiglie di tutto il mondo possiamo considerarla come un'ultima tappa del cammino verso il sinodo in ascolto di quelle che sono le esigenze delle famiglie? Sì sì credo credo di sì che appunto il papa ha visto e vede e vive questo momento proprio come diciamo un ultimo momento in preparazione anche al sinodo che si svolgerà in ottobre. Per mettere in luce e credo che questo emergerà anche dall'incontro di Filadelfia per mettere in luce soprattutto la bellezza della famiglia ecco è il messaggio che il Vangelo offre alle famiglie l'aiuto che il Vangelo offre alle famiglie quindi questo questo aspetto positivo senza dimenticare anche le grandi sfide che la famiglia pone al mondo di oggi ecco sarà davvero una come dire una preparazione immediata all'assemblea del sinodo dei vescovi ma credo che ci darà darà a tutti i partecipanti darà alla chiesa intera questo nuovo entusiasmo e questa voglia di proclamare il Vangelo della famiglia e nello stesso tempo di aiutare le famiglie che si trovano in qualsiasi genere di difficoltà ecco a vivere questo Vangelo nella sua pienezza che è fonte di gioia e di pace e di felicità per tutti.